Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Tra l'Avrov lì, anche se è stato solo per un giorno, e cominciare a stringere un po' di più su possibili trattative di pace, o se in realtà per il bilancio comunque lo possiamo considerare positivo. E l'altra domanda che le volevo fare era questa. Il giorno prima che iniziasse il G20, c'era stato detto che in Turchia si stavano incontrando servizi segreti di Mosca e di Washington. Poi di questo non si è saputo più niente. Lei ne ha notizia? E che cosa è successo? Cominciando dalla parte più semplice, che è la seconda. Nel momento in cui i vertici dei servizi di intelligence russi e americani si incontrano in maniera così pubblica a Istanbul, lo fanno sapere, quello è l'evento che si conclude in quello. Nel senso, era importante far sapere a tutti che restano aperti canali di comunicazione, anche in una situazione così tesa, per ridurre al minimo il rischio di incomprensione di quello che succede. Punto. Cioè non c'era niente di più. Non è che quello apriva a potenziali dialoghi. Era solo per dire, guardate che nonostante tutto, c'è un canale di comunicazione, che è molto importante. E questo è servito. Poi i due si saranno detti delle cose. Infatti poi il capo dell'intelligenza americana se ne è andato a Kiev. Ecco. Quindi sarà andato, diciamo così, a riferire a Kiev, immagino, no? Beh, il capo degli servizi americani riferisce al presidente americano. È andato a dire qualche cosa a quelli di Kiev, insomma, a condividere una serie di informazioni e a raccogliere una serie di informazioni ragionevolmente. Gli americani chiaramente hanno tutto un mondo di informazioni che in buona parte, per quello che riguarda la componente tattica nel campo di battaglia, condividono con gli ucraini. Poi hanno tutta un'altra serie di informazioni che ha una potenza globale, che evidentemente condividono con altri o non condividono con nessuno. Questo non è che ne abbiamo... Cioè, a proposito delle cose dette e non dette. Eh sì. Dal punto di vista poi invece del vertice, ma a me sembra che non bisogna mai mettere troppe aspettative nei vertici. Cioè, i vertici sono momenti di comunicazione, di incontro. Lavrov se n'era arrivato a Bali al posto del suo presidente con una proposta indecente, neanche irricevibile, che la proposta di Lavrov era la solita manfrina russa. Vedete, noi siamo tanto disponibili a fare la pace anche perché ci stanno buttando fuori a calci nel sedere dal sud dell'Ucraina. E sono gli ucraini che incomprensibilmente, nonostante noi occupiamo una parte importante del loro territorio, nonostante gli stiamo facendo danni alle infrastrutture civili e residenziali per puro spirito di vendetta e rappresaglia, nonostante gli stiamo scappando conto di tutto, incredibilmente gli ucraini, guarda, non vogliono fermare le cose a questo punto. Quindi è una proposta assolutamente assurda. Quello che però, alla quale Zelensky ha replicato, con una proposta che non è speculare, come molti hanno detto, ma semplicemente appunto riprende i termini del diritto internazionale e può essere un punto di partenza. Quello che però, su cui invito a riflettere, è questo, cioè, dopo dieci mesi di guerra quasi e questi danni enormi e il comportamento russo che si è palesato per essere sostanzialmente incontrollabile, i russi dicono una cosa, ne fanno un'altra da un anno, quindi sono un partner che viola la verità e questo è fondamentale perché è uno che mente come fai a credegli. Allora, alla fine di questo conflitto, come si arriverà, si arriverà. I casi sono due. O i russi escono veramente dai territori che hanno occupato e sono disponibili a ragionare, ma davvero in maniera aperta a 360 gradi, sui territori occupati nel 2014 e allora questo apre uno scenario ancora possibile di risarcimento del danno, di grande finanziamento da parte occidentale per la ricostruzione ucraina e se la Russia si comporta così e quindi dimostra quei fatti di aver cambiato atteggiamento è ancora ipotizzabile un discorso non di demilitarizzazione dell'Ucraina, ma di neutralità garantita internazionalmente, oppure se la Russia resta anche solo su un centimetro di territorio ucraino, questa prospettiva sparisce e l'unica garanzia che gli ucraini possono avere per accettare una sovranità monca è una garanzia della Nato. Allora, dal punto di vista politico, la difficoltà di Putin qual è sostanzialmente? Che gli obiettivi politici della guerra sono comunque già tutti andati a quel paese. L'altro giorno qualcuno diceva Putin è come, rievocando la sua intervista di qualche tempo fa in cui diceva che cacciava i topi a Leningrado e una volta aveva un topo grosso con le spalle al muro e questo topo grosso, vistosi con le spalle al muro, lo aggredì. Allora, se la metafora in questo momento è Putin è con le spalle al muro e nell'angolo, ecco, io direi che è una metafora sbagliata, perché Putin vorrebbe avere le spalle al muro, ma dietro di sé c'è l'oligarchia di cui lui garantiva l'equilibrio che inizia a muoversi. A me sembra che Putin, da qua alla fine del prossimo anno, non è per nulla detto che sarà lui a gestire questa questione e a me più che un topo è chiuso nell'angolo, Putin ricorda Cesare sotto la statua di Pompeo. Beh, insomma, interessante come parallelo, come paragone. Io mi devo fermare qui.